salve a tutti ragazzi bentornato benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura dopo l'ultimo episodio in cui purtroppo ci hanno uccisi gestito male io ovviamente la la situazione purtroppo c'è avuto un tempismo intanto mi muovo perché insomma sta tramontando e vorrei insomma fare comunque qualcosa prima che non si veda più niente diceva ho avuto un pessimo tempismo io di muovermi nel momento in cui lui è sceso dalle scale si trovava i piani superiori e nel momento in cui mi è salzato non avevo più l'arma puntata un corpo è mai sciottato è andata così pazienza insomma fatto malissimo tra l'altro pensavo però insomma così a bruciapelo sta eravamo veramente manca un metro di distanza e ci ha sciottato pazienza avrebbero tutta tutta esperienza quello che stavano immagazzinando e si riparte anche più leggeri senza niente addosso e stiamo comunque durati abbastanza col colo scorso personaggio comunque abbiamo trovato un bel po di roba abbiamo iniziato a conoscere certe meccaniche insomma quindi ripeto è tutta tutta esperienza che si che si fa allora a parte la portiera è qua che non ci interessa e via tra l'altro già sentito uno sparo mentre prima di poter cibo sconosciuto vabbè intanto lo pigliamo tanto ecco questo dicevo avevo già sentito di degli spari poco prima di premere registrazione infatti avete sentito che c'è dell'attività serve comunque pieno quindi diciamo che è impossibile non non trovare qualcuno allora intanto usamo la mazzetta per il momento dovessimo e che cos'è dovessimo difenderci dagli zombie fino a spinata non ci serve e se ricomincia il giro ragazzi ovviamente nel tentativo di trovare qualcosa che possa servirci soprattutto delle armi da fuoco anche se io vorrei andarmene dalla città il più velocemente possibile allora questo intanto solo ma non ce lo mangiamo mangia ok per quell'altro devo aspettare perché non so se col martellone potrei aprirlo però ecco non non ne rimarrebbe moltissimo in base a cioè va a rovinare ovviamente anche la scatola se usiamo un martello proprio in una scatola potete immaginare che non è che rimanga poi molto bene la scatola soprattutto per quello che c'è dentro quindi bisognerebbe utilizzare qualcosa di più adeguato anche un cortello qualcosa del genere o un apri scatole sarebbe veramente il top allora qui non c'è mi pare niente a parte sta scopa per terra andiamo a vedere un attimo i piani superiori ma questi sono chiusi a queste porte quindi mi vedo a pensare qui ancora non ci sia spero venuto nessuno ma mi pare che non ci sia niente di che magnato qualcosa non sale manco la la barretta capito che ho aspetta 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 e dai ma visto pure questo e si vabbè l'allero magari una festa che cazzarola non so e poi te ne vede uno ti vedono tutti ci avessero qualcosa addosso poi ancora vabbè famo farvi questo ormai aia ok e niente per questo niente vabbè dovrebbero esserci delle scale qua mi sa che ho preso il lato sbagliato dove stanno di qua o è l'unica che non si sta di qua allora colpi per il momento prendiamo giacca da luta non ci serve c'è ma il giubbottino imbottito che ci aiuta pure con la temperatura e niente se prosegue raga ovviamente siamo alla ricerca di di qualche arma da fuoco finché ci abbiamo un po di luce proseguiamo poi ci ci rivediamo quando quando rialbeggia perché di notte avete molto difficile potersi muovere non ho mai provato più di tanto insomma c'è visto nel momento in cui ma che cazzo stanno a sta parte lo gira intorno ma qua mi sa no finalmente e ok ottima questa ce la mangiamo subito dicevo ho visto quando non c'è effettivamente cioè è buio insomma sì se si è magari nel bosco o nello spazio aperto come potete immaginare c'è sapete poco e niente e in città mi pare che ci sia ancora della dell'illuminazione se non ricordo male però comunque sia non è proprio il massimo da in giro che già non riesca a vedere persone quando sono di giorno figurate vede notte quindi vediamo un po allora ci facciamo un attimo a ste case in verità tanto comunque ci tocca diciamo esplorare problema è che se è passato a qualcuno ovviamente di roba buona difficilmente a troveremo questa che avevo questo berrettino mette ma se no ok però le armi più che altro senterei un pochettino più sicuro ovviamente bisogna sperare si trova un'arma ma anche i corpi allora che c'è qua niente cappello scarpe da corsa e nient'altro vabbè ma sa un attimo dietro sta mazza che così vediamo di portarcelo in mano per rettina stola ok ma la controlliamo un attimo che è un'altra cosa che mi avete detto che sbaglio giustamente quello di perdere un po troppo tempo a sistemare l'inventario magari nelle posizioni meno opportune allora questa pure non avendo il caricatore però ci avremo un corpo no devi usare quelli è vista mira da schifo che ci abbiamo noi sarà interessante poi capire se riusciamo a fare a farsi a farci sia fare centro con quest'unico colpo perché poi ricaricare sarebbe un casino però vabbè intanto abbiamo qualcosa allora facciamo di qua dovremmo trovare se siamo fortunati un caricatore ci abbiamo sei colpi di questa insomma non sarebbe sarebbe male giusto avere qualcosa non so che sembra comunque piccino come come pistola però insomma avere qualche oggetto per difenderci non sarebbe male allora vediamo sta casa qui mi sembra più zona comunque industriale quindi forse difficilmente trovi qualcosa ma questi sono pantaloni da tuta li cambiamo anche se sto rosso sgargiante non ci aiuta però per lo meno evitiamo testati pantaloncini corti insomma non è proprio il massimo della della questione e poi proseguiamo dai la c'è la zona industriale senza che andiamo a perdere tempo volevo cercare di uscire allora lì ero nelle case che siamo andati prima quindi niente proseguiamo qui lungo la strada e dirigiamoci insomma verso verso fare città non so qual è la città questa dove dove siamo nati mi sa che una di quelle al centro della della costa perché quella tutti a sinistra se non ricordo male c'è il faro e c'è il porto ed anche abbastanza grande non che questa sembra piccolina vedesse però insomma allora andiamo con la capistoletta per quanto possa sembrarci posso aiutarci insomma non c'è niente questo ma giacca ma ce l'abbiamo già c'è niente proprio zero zero cazzo di zombie qua qua ce ne stanno un po visto che mi pare una sorta di non ha capito zero uno zaino tipo una una cartella quella non sarebbe male però dovrei evitare che arrivino in mille bravo bravo allontanate dal gruppo così ci piace dovremmo cerchiati avvicinacce un attimo più stelto bravo allontanate bene mi piace quando i zombie so collaborativi pensione però cerchiamo di non allarmarlo più di tanto ok sempre che sia ok intatto quindi ci possiamo prendere sto pomodoro marcio magari no quello proprio no vabbè almeno c'è uno zainetto rudimentale ma sempre meglio di niente io mi perdi porto di queste case però tanto vediamo qua che si sta iniziando a far buio che è questo se fai tante spray ma poi magari non ci interessa credo che serva per che non sa quando vai a coltivare qualcosa c'è niente proprio per evitare di morire fame sinceramente allora noi vediamo dalla quella l'hanno vista da me sta un attimo a aspetta questa di zombie però devo far giro chiaro non si può entrare di finestra sennò non ce l'avete non ce l'avete aspetta naso adesivo vabbè diamo potrebbe servirci anche per sistemare eventuali danni ai vestiti oltre che agli oggetti insomma c'è niente che cazzo sto a salire ok niente ragazzi aspetta buono 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 riso ottimo riso risata come me vi è da ride allora se sapete di che battuta mi stavo riferendo scrivetemelo nei commenti allora no qua il bagno no c'è un batti carne che non ci interessa questa che è cannello no no non credo che ci interessi ti ha visto no vabbè ammazzamolo quale non urla non urla ok se non fa cacciare a chiama gente che c'è sta pomodoro essicchiato quello potrebbe già essere buono sempre meglio di quello marcio insomma allora proseguo finché ci sapete un pochetto a rega la nostra fidata pistoletta poi stiamo in una botte di ferro se incontrammo qualcuno o prima lanciagli parolacce più che altro giacca con protodon non ci serve io ho sempre paura che becchia qualcuno qua sopra non so anche se non c'è effettivamente un altro piano c'ho sempre la paura allora mandiamo se sto riso un po così un po a tristezza però questo ci abbiamo intanto cerchiamo di tamponare con questo e basta che se lo stavo a mangiare troppo e niente per il momento non abbiamo niente da bere e quindi dobbiamo arrangiarci o niente per il momento allora è inizio già non vede quasi in cacchio di niente però andiamo di qua cerchiamo di vedere se troviamo qualcosa fucile nostro famoso spotter e va bene per il momento prendiamo questo e poi vediamo tanto comunque non ci sono non ci sono corpi quindi ci facciamo niente per ora ok proseguiamo dove proseguiamo di qua so pure calmati gli spari quindi non so se può essere una cosa buona cioè sì perché magari non ci sono più scontri però avere anche ogni tanto l'indicazione se effettivamente c'è qualcuno non è male finché sparano lontano da noi che problema c'è ecco a un sacchiotto però davano comunque una buona indicazione e ok direi che possiamo pure salutarci raga perché inizia veramente ad avere di problemi a vedere soprattutto se dovessi se dovesse passare qualcuno vicino rischiera di non vederlo entriamo dentro a una di queste case e poi ci ci salutiamo raga se riuscissi a trovare ovviamente la porta l'ingresso più che altro anche se ci fossero dei zoom no sentire cosa che di marone dei rami messa e nessuno che c'è qualcuno cappelletto ce l'avemmo già e mi pare che c'è qualcosa pure qua un bk43 che quasi quasi è uguale tanto comunque non c'è niente quasi quasi lascio qui a pistoletta anzi no questo è l'unica che c'è un corpo anche se non c'è caricatore non c'è niente questo qui ci va ok e tiriamo su pure questo raga tanto magari se ci dice veramente veramente bene possiamo ricoprare dei colpi poi finché non abbiamo niente di di meglio accontentiamoci tanto comunque se non c'hanno colpi dite vabbè cazzo se fai se non c'è colpi però se ci dice bene magari la prossima casa li trovamo e ci abbiamo già oppure qualcos'altro per poterci difendere va bene ragazzi visto che comunque qui la sera è bella che è scesa direi che ci possiamo pure fermare qui io vi ringrazio come sempre se siete arrivati fino in fondo se vi fa piacere lasciatemi un mi piace un commentino iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto poi in descrizione trovate tutti i miei link ai social network al server discord e alla mia attrezzatura e in alto a destra c'è la i che vi riporta l'apriso del titolo se avete saltato qualche appuntamento io di nuovo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao